L'area della provincia di Ragusa è classificata dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia come zona 2, ovvero zona sismica caratterizzata da terremoti di forte intensità. L'Istituto per la protezione dell'ambiente l'ha valutata zona densa di edifici a rischio frane per distesso idrogeologico ed è inoltre emerso un alto consumo di suolo in tutto il territorio ebleo, causa di frammentazione e disgregazione dei tessuti urbani. La combinazione di calo demografico e crisi economica non ha tuttavia arrestato l'incessante costruzione di immobili che restano invenduti. Questo scenario apocalittico riportato dalla CNA mette in evidenza la pessima qualità del nostro patrimonio edilizio. Si può dire anche che nell'albo artigiani provinciale è registrato un grande calo dell'impiego di imprese artigiane delle costruzioni. Nel 2017 erano attive 2.121 imprese, ovvero 50 in meno rispetto al 2016 e 450 in meno rispetto a 8 anni prima. Si parla anche di perdita di forma compatta delle città attraverso la frammentazione e la disgregazione dei tessuti urbani e fughe dal centro storico. La CNA reclama un necessario cambio di direzione puntando tutto sulla formazione e la qualificazione delle imprese. Gli elementi su cui si dovrebbe mirare sono sicuramente risparmio energetico, la sostenibilità, l'uso di materiali con un buon impatto ambientale, ma soprattutto occorre un cambio di mentalità e abbandonare l'ottica del profitto ad ogni costo.